Non è la malattia a causarti ansia e stress, la malattia in realtà sta amplificando tutte quelle dinamiche che c'erano già prima della diagnosi ma che con la diagnosi non fanno altro che prendere ancora di più il sopravvento, prendono ovviamente ancora più spazio e di conseguenza vanno ad aggiungere ancora più ansia, vanno ad aggiungere ancora più stress quindi il concetto che vorrei che ti portassi a casa oggi è che le dinamiche inconsce, interiori che già non ti facevano bene erano già lì e ti faccio subito un esempio molto pratico se già prima c'era un atteggiamento rimuginativo dove tu magari molto spesso cadevi nel pensiero negativo nel pensare insomma magari mi andrà male piuttosto che insomma cosa succederà, va a finire che eccetera eccetera oppure se tu già avevi comunque un atteggiamento di lamentela e quindi di prendere in qualche modo la vita in una maniera come fra virgolette vittima di quello che ti accadeva la malattia in realtà non fa altro che amplificare queste dinamiche e quindi aumenterà la lamentela, aumenterà il pensiero negativo, aumenterà l'atteggiamento vittimistico oppure ancora ad esempio Silvia, una mia cliente, ieri in sessione mi ha portato questa cosa dicendomi Mara mi sono resa conto facendo il percorso che comunque ogni parola che viene detta e ancora di più se è riferimento alla malattia acquisisce un peso determinante e a me cambia proprio lo stato di umore della giornata ma questo suo atteggiamento di fra virgolette rigidità, di non ammissione, di sbaglio, di errore, di difetto chiamiamolo come vogliamo non è che è arrivato adesso, adesso si è amplificato con la malattia ma effettivamente come lei stessa ha riconosciuto c'era già prima quindi quello che vorrei che ti portassi a casa oggi è proprio questo concetto la malattia fa da megafono, fa da amplificatore sta sostanzialmente portando a galla tutto ciò che già era dentro e che però non era stato visto e quindi adesso la malattia ti presenta al conto, ok? quindi ha fatto tutta la somma e ti viene il bel conticino dove tu, ripeto, rischi di dare colpa alla malattia per tutto questo ma in realtà non è derivato dalla malattia o perlomeno non solo perché tutto già c'era dentro di noi e quindi a chiusura ecco perché faccio ciò che faccio perché la malattia è un pretesto per fare quel salto quantico quel salto qualitativo nella nostra vita di crescita personale che mi permetterà non solo di attivare risorse e quindi riscoprire capacità, autostima, fiducia ma di generare effettivamente passo dopo passo anche quell'effetto benefico a livello corporeo che tanto vogliamo per non incappare in un'altra recidiva grazie grazie grazie